La civiltà cattolica presenta Abitare nella possibilità Arte per resistere, di Luigi Territo Nata nel 1981 a Teheran, Nusha Tavakolian ha iniziato giovanissimo la sua carriera di fotoreporter. Appena sedicenne inizia a collaborare con il giornale Zan, il primo quotidiano fondato da una donna iraniana. Durante le manifestazioni studentesche del 1999 a Teheran, la Tavakolian scende nelle piazze della capitale per documentare le rivolte di una generazione che chiede diritti e riforme. I suoi scatti fanno il giro del mondo e presto le sue fotografie verranno pubblicate sui più prestigiosi giornali internazionali, dal New York Times alla Figaro, da Der Spiegel al Time. Il suo obiettivo ha catturato decine di sguardi, ha raccontato rivolte, ha ritratto piazze ricolme di manifestanti, ha lottato contro cliché e facili stereotipi occidentali sull'Iran e il Medio Oriente. Spesso al centro delle sue narrazioni troviamo la condizione di invisibilità in cui vivono molte donne del nostro tempo, come le combattenti kurde dell'Unità di Protezione Popolare, donne fiere, coraggiose, avvolte da tute mimetiche e da fular colorati. donne armate che combattono per la libertà del loro popolo. Sullo sfondo bandiere, cieli grigi, sorrisi spezzati. In un'altra famosa serie fotografica, Listen, la Tavakolian dà voce al silenzio delle cantanti della sua terra, donne alle quali non è permesso di esibirsi come soliste a causa delle leggi islamiche post-rivoluzionari del 79. La pluripremiata fotografa iraniana ama ritrarre gli uomini e le donne delle periferie, quegli spazi impersonali che divorano i sogni e le speranze di una generazione in cerca di futuro. Nella serie Look, fissa in pochi rapidi scatti le incertezze e le paure che abitano le coscienze del nostro tempo. Sono ritratti in movimento, stati di coscienza, parole mute in dialogo con quelle periferie abitate da solitudine e da incertezza. Abitazioni familiari diventano spazi sospesi. Il tempo si allarga divorando lo spazio. Grigio e cemento completano la desolata scenografia di vita interrotte. Non è ancora il tempo della luce. Il tempo si allarga divorando lo spazio.